La strada sbarata da un catenaccio in acciaio, l'odore chimico di copertoni bruciati, rumore di spari che per fortuna non sono andati a segno. Chi fosse passato questa mattina intorno alle 8.15 sulla statale 125 nel tratto tra Tertania e Sarabus si sarebbe trovato di fronte a uno scenario da film che di finzione però non aveva nulla. Un furgone portavalori della Mondial Pole è stato preso d'assalto da alcuni banditi per i quali ora caccia l'uomo in tutta l'ogliastra. Pochi minuti, secondo le prime testimonianze di chi era sul posto, per mettere in atto un piano stratificato. I malviventi hanno prima operato un blocco stradale con una catena e con pneumatici sparsi per la carreggiata e dati alle fiamme, poi hanno attaccato il furgone portavalori. Ci sarebbe anche stata una sparatoria che non ha tuttavia provocato feriti e la distruzione è mediante le fiamme di 5 vetture tra cui lo stesso furgone portavalori. Poi la fuga dei banditi verso Sud in direzione Cagliari, lungo il torrente che affianca la statale 125. Ancora non si sa se la rapina sia andata a segno. Le indagini in mano ai carabinieri della compagnia di Ierzo immediatamente sul posto per effettuare i rilievi di legge e al nucleo operativo di Nuoro sono condotte al momento sotto il massimo riservo. Presenti anche i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e un elicottero Areus. Pesanti, disagia la circolazione con la statale 125 chiusa al traffico tutta la mattina.